Dal Vangelo secondo Matteo Non sono stato mandato se non ha le pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo Signore aiutami. Ed egli rispose Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù replicò Donna grande è la tua fede Avvenga per te come desideri E da quell'istante sua figlia fu guarita. Mi sembra che questo brano del Vangelo di Luca Ci offra uno sfaccato Della vita dei nostri giorni. Una donna che non credeva in Dio Una donna che venerava gli dèi Ma riconosce in questo Gesù il figlio di Dio E gli chiede di aiutarla Lo invoca, lo supplica Ma Gesù non le rivolse neppure una parola Pensiamo a quante volte anche noi desideriamo tanto Inquantrare qualcuno di importante Ci prepariamo E magari Quell'incontro Non ci dice niente Perché quella persona Che noi desideravamo incontrare Non ci rivolge neanche uno sguardo Pensate Quello che ha vissuto quella donna Allora i discepoli Gli dicono Ma maestro Questa qui Continua a sgionfarci Continua a urlarci dentro Dietro E allora per piacere Aiutala I discepoli Non chiedono a Gesù di aiutarla Perché anche lei è una creatura Veglia di Dio Ma solo perché Urla loro dietro E allora Gesù dice Non sono stato mandato Se non ha le pecore perdute Della casa di Israele Ma quella donna si avvicinò In onde morte E dice Che anche i cagnolini Si cibono dalle briciole Che cadono dalla tavola Dei loro padroni Di fronte a questa affermazione Gesù supera Questo rapporto freddo E quasi si commuove E dice Donna Grande è la tua affermazione È molto bella Veramente la conclusione Di questa parola di Dio E la consegna che fa a noi In questa settimana Che da poco È passato il ferragosto In questa settimana di ferie In cui forse tanti di noi Sono ancora in vacanza La consegna è molto semplice Credere Che Gesù Ha una parola per tutti Credere Che ogni creatura È figlia Dello stesso padre Riconoscere In coloro che avviciniamo Fratelli e sorelle Oggi facciamo fatica amici A riconoscere questo Perché Perché la paura Prende tante volte Il sopravvento Perché ci lamentiamo Dei profughi Dei stranieri Dei rom Abbiamo paura Il Signore ancora una volta Ci chiede Superate la paura Superare la paura Non vuol dire Fare delle cose Eclatanti Ma vuol dire Prima di tutto Cambiare il nostro cuore Forse non potremmo fare Nessun gesto Ma è il cuore Che deve cambiare Perché è lì Che abitano Le cose belle E le cose brutte È dal cuore Che nascono I nostri desideri Più profondi E guardate che Gesù Nel cuore di ciascuno Ha messo la bontà E allora veramente Chiediamo al Signore In questa settimana Che ci aiuti Ad essere Degli uomini Buoni Che non hanno paura Di credere Che Gesù È venuto per tutti Che Gesù È morto per tutti E abbiamo il coraggio Di guardare I nostri fratelli Non Con l'occhio Del giudizio Ma con l'occhio E con il cuore Dell'amore Vi dicevo Senza la pretesa Di fare miracoli Forse non potremo Accogliere nessuno Non potremo fare niente Ma veramente Un cuore diverso Un cuore capace Di sorridere Un cuore capace Di condividere Un cuore capace Di mettersi Nei panni dell'altro E allora Gesù Ci dirà Donna Uomo Grande È la tua fede Perché tu hai creduto Nella forza Della bontà E con il mio aiuto Sei riuscito Sei riuscita A dare un volto Un pochino diverso Al mondo Anche se tu non te l'accorgi Un cuore capace Un cuore capace